Giammi che è tardi? Che è successo? Che vai Giammi? A posta, a posta. Sei bene? Pronto? Pronto? Pronto 118? Sì, sì, c'è una persona che non si sente bene. Pronto? Papà? No Luca, non sono papà, sono Concetto. Oh, Concetto. Dimi a me. Vieni subito, che papà non si sente bene, non ci hai chiamato il 118. Papà sa, ma... Ma che stai dicendo? Arrivo subito, dammi due minuti. Arrivo subito, sì? Poi... 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 Ma sta tranquillo tu, non ti affaticai Fatta vicino a me, vieni a giocare Non mi resta poco tempo tutti Forse rimane un peccaccio E non prendo la casa di questo Non, non ti affaticai Ma sta tranquillo, non ti affaticai 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 Ma sta tranquillo Che sta chendo Si tu te svegli che canta Chi su pute a chi muore Non ti affaticai Avanzo te roba Ma è più grande Non ti affaticai 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Non ti voglio promettere non farà perché si muore, tu muore questa città e poi nessuno potrebbe essere subito Non ci credo, non ci credo ancora che mi trova andanza a te a te dicere l'ultima parola e tu senza respiro mi spie il suo cuore, ti voglio bene mamma, ti voglio bene Siamo qui, siamo con Gianni Sono troppo male, male da morire male da morire, qua con Luca Ragazzi, tocciamo ferro, non io ferro Succede anche questo Succede